Benjamin Franklin, il poliedrico genio del Settecento. Introduzione Benjamin Franklin è una figura emblematica nella storia degli Stati Uniti e del mondo. Nato a Boston nel 1706, Franklin è stato uno scienziato, inventore, statista, scrittore e diplomatico. La sua vita e le sue opere hanno lasciato un'impronta indelebile sul tessuto della società americana e sulla scienza moderna. Gli inizi Franklin nacque in una famiglia numerosa, il quindicesimo di 17 figli. Suo padre era un fabbricante di candele e sapone, e la famiglia non era abbiente. Nonostante ciò, Franklin mostrò fin da giovane una straordinaria sete di conoscenza e un talento per l'apprendimento autodidatta. Carriere e invenzioni Franklin iniziò la sua carriera come apprendista tipografo, ma ben presto si distinse in numerosi campi. Come scienziato, è famoso per i suoi esperimenti con l'elettricità e l'invenzione del parafulmine. Come inventore, creò gli occhiali bifocali e la stufa Franklin, che migliorava l'efficienza del riscaldamento domestico. Contributi politici come statista, Franklin fu uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Partecipò alla redazione della Dichiarazione di Indipendenza e fu ambasciatore in Francia, giocando un ruolo cruciale nell'assicurare l'appoggio francese durante la Rivoluzione Americana. Filosofia e valori Franklin era un uomo del Rinascimento, profondamente radicato nei valori dell'illuminismo. Credeva fermamente nella razionalità, nella tolleranza e nel miglioramento sociale attraverso l'educazione e l'innovazione. La sua vita è stata un esempio di come l'ambizione e la curiosità possano portare a grandi realizzazioni. Eredità oggi, Franklin è ricordato non solo per le sue molteplici invenzioni e contributi scientifici, ma anche per il suo spirito imprenditoriale e la sua dedizione al progresso sociale. La sua immagine è immortalata sulla banconota da 100 dollari, un simbolo della sua duratura e influenza e del suo status di primo americano. Conclusione Benjamin Franklin rimane una delle figure più influenti e rispettate nella storia moderna. Il suo lascito continua a ispirare innovazione e ricerca della conoscenza. Come ha detto lo storico Henry Stilcomager, in Franklin poterono fondersi le virtù del puritanesimo senza i suoi difetti e la luce dell'illuminismo senza il suo ardore eccessivo. Questo articolo ha cercato di catturare l'essenza di Benjamin Franklin, un uomo che ha vissuto con passione e ha lasciato un segno indelebile sul mondo. La sua vita è un promemoria potente di ciò che è possibile quando si uniscono curiosità, intelligenza e impegno per il bene comune. Benjamin Franklin è stato una figura di spicco nella storia, noto per il suo contributo significativo in diversi ambiti. Ecco un approfondimento sull'influenza di Franklin nella storia. Contributi scientifici e invenzioni Franklin fu un pioniere nel campo della scienza, in particolare con i suoi studi sull'elettricità. L'esperimento con l'aquilone, che dimostrò la natura elettrica dei fulmini, e l'invenzione del parafulmine hanno avuto un impatto duraturo sulla scienza e sulla sicurezza pubblica. Ruolo nella rivoluzione americana come uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, Franklin ebbe un ruolo cruciale nella rivoluzione americana. La sua abilità diplomatica fu fondamentale nell'assicurare l'alleanza franco-americana del 1778, che fu decisiva per la vittoria americana nella guerra di indipendenza e influenza politica Franklin contribuì alla stesura della dichiarazione di indipendenza e della Costituzione degli Stati Uniti. La sua visione politica influenzò la formazione dei principi democratici e delle istituzioni americane. Impatto culturale oltre ai suoi contributi scientifici e politici, Franklin fu anche un influente autore e editore. Il suo almanacco, pur Richard S. Almanac, fu ampiamente letto e citato, diffondendo proverbi e massime che sono entrati nel linguaggio comune 1. Eredità l'eredità di Franklin persiste non solo attraverso le sue invenzioni e i suoi scritti, ma anche attraverso il suo esempio di vita dedicata all'apprendimento continuo, all'innovazione e al servizio pubblico. Grazie. 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 Grazie.